Il 66% dei laureati presso l'Ateneo Federiciano ad un anno dal conseguimento del titolo sono già occupati contro una media abruzzese del 56%. Il 58% degli occupati contro una media regionale del 52% può contare sul lavoro stabile, ossia con contratto a tempo indeterminato o con un'attività autonoma, effettiva con un guadagno medio di 1.145 euro al mese, anche in questo caso superiore alla media abruzzese che è di 1.061 euro. Sono i dati del diciottesimo rapporto Alma-Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati italiani che nel divario tra nord e sud, di cui anche il sistema universitario risente, pone l'Ateneo Aquilano in testa a quelli del centro-sud quanto a possibilità di trovare lavoro nei primi tre anni. Per i neolaureati all'Università dell'Aquila c'è l'86,1% di possibilità di trovare lavoro nei primi tre anni, ha spiegato la Inverardi, affiancata dal prorettore vicario Carlo Masciocchi, dalla prorettrice delegata agli affari internazionali Anna Tozzi e dalla referente di Ateneo per l'orientamento, il tutorato e il placement, Giulio Antonini. Per quelli dell'Università Chieti-Pescara le possibilità sono dell'81% e per quelli di Teramo il 79,5%. Ma l'Ateneo Aquilano fa meglio anche di altre università del centro-Italia, come Siena, Perugia, Pisa, Roma 3 e Roma La Sapienza. Noi eravamo consapevoli del nostro dato, in realtà non eravamo tanto consapevoli dei dati degli altri, di quanto fosse un risultato buono quello dei nostri laureati. È un elemento positivo che ci dà forza la determinazione di continuare a fare sempre meglio per la preparazione dei nostri studenti. Grazie. Grazie. Grazie.